Buonasera a tutti, benvenuti su investire.biz, ben ritrovati come ogni martedì all'aggiornamento di trading con i cimoku più price action, sessione più operativa della settimana che si svolge ogni giovedì dalle ore 16 alle ore 17. Io come sempre sono Riccardo Zago e anche quest'oggi andremo ad aggiornare un po' di strumenti sia visti questa mattina nella rubrica caffè mercati e poi anche degli strumenti o comunque dei sottostanti che non abbiamo trattato e che poi andremo a trattare come ogni giovedì alla sessione operativa, una delle più operative della settimana dove mercato permettendo andiamo anche ad operare in scalping barra intraday e quindi rinnovo come sempre l'invito nella sezione appuntamenti ad iscriversi proprio alla sessione di giovedì dalle ore 16 alle ore 17 le iscrizioni sono già aperte. Detto ciò però andiamo subito sulla piattaforma del broker Kimura Trading per vedere quelli che sono gli strumenti di quest'oggi. Andiamo su tre sottostanti partiamo da quello analizzato già questa mattina. Abbiamo visto come il cambio valutario dollaro contro dollaro canadese si stava avvicinando alla zona supportiva complessa tra la soglia degli 1,28 e gli 1,28 e 20. Il minimo odierno come potete vedere dal bit dettaglio in alto a destra è stato segnato in area 1,28 e 19. Quindi un test perfetto del livello statico che abbiamo visto in mattinata. La cosa interessante però qual è? La cosa interessante è che qualora i prezzi chiudessero intorno a questi livelli o comunque al di sopra del livello di 1,28 e 75 quindi al di sopra poi dell'apertura di quest'oggi, l'apertura per essere precisi è 1,28 e 72, la chiusura quindi sopra questo livello darebbe ulteriore spinta a mio avviso al rialzo su questo strumento e di conseguenza andrei a valutare un long con obiettivo primario in area 1,3 stop loss alla rottura di questo livello evidenziato in rosso e target price che abbiamo individuato grazie all'indicatore target indicator come potete vedere qui molto ambizioso in area 1,33 e 38. Questa è un'operazione chiaramente di ampio respiro che potrebbe quindi durare anche diverse settimane però la cosa più importante a mio avviso è attendere quella che sarà la chiusura giornaliera e anche chiaramente facciamo attenzione alla linea chiusura la linea blu dell'indicatore che come sempre può darci delle utilissime informazioni in questo caso potrebbe fungere da supporto per i prezzi detto ciò però andiamo avanti perché abbiamo altri due strumenti stamattina abbiamo visto il DAX però oggi voglio oggi pomeriggio cambiamo andiamo sul fronte americano e parliamo proprio di quello che è il nasdaq 100 l'indice che raggruppa le 100 aziende a maggior capitalizzazione degli stati uniti che come potete vedere ha testato questa zona che ho evidenziato dopo la chiusura del gap venerdì guardate con che forza i prezzi hanno chiuso al di sopra anche della linea chiusura sembrava quasi che oggi potessimo continuare a arrivare fino al target rialzista di periodo che a mio avviso è 12.800 però la candela di quest'oggi parla abbastanza chiaro trend ribassista o comunque pressione odierna abbastanza importante qualora ritornassimo al di sotto in chiusura attenzione giornaliera del minimo di venerdì in quel caso dovremo fare particolare attenzione perché torneremo all'interno di un setup ribassista che potrebbe riportare i prezzi anche ai minimi precedenti come primo obiettivo quindi stiamo parlando di 11.200 e come target finale ribassista parliamo sempre di ampio respiro vedete che ho evidenziato un altro livello in più in basso individuato sempre grazie al nostro target indicator qui in area 10.400 10.350 quindi attenzione a questo livello chiave siamo ad un bivio da qui perché questa prima era una zona resistenziale ora potrebbe anche fungere da zona supportiva di conseguenza sempre importantissimo andare ad attendere le chiusure giornaliere perché come sappiamo anche gli indici americani nel tardo pomeriggio nostro poi possono dare dei cambi di direzione molto molto importanti per questo sono fondamentali le chiusure una chiusura al di sopra di questo livello manterrebbe il trend di breve ancora rialzista mentre una rottura di questa zona aprirebbe a nuovi short attendiamo la chiusura giornaliere poi operiamo di conseguenza con loro dovessimo entrare invece nuovamente al rialzo possiamo puntare come primo obiettivo ai massimi precedenti in area 12.200 andiamo avanti per ora e concludiamo l'aggiornamento di trading con i cimoco più pre section di quest'oggi con il natural gas natural gas che ha oltrepassato questa zona supportiva e ha rotto l'accumo al ribasso con forza come potete vedere con questa candela ad altissima volatilità del giorno 23 6 2022 rotta questa zona supportiva ora potrebbe fungere da resistenza quindi a mio avviso ogni rimbalzo come quello di oggi è da sfruttare per eventuali e nuovi trade ribassisti con obiettivo qui in basso in la 5 2 4 ok quindi questo potrebbe essere un nuovo trade short con uno stop loss anche abbastanza stretto in quanto la rottura comunque il ritorno al di sopra del massimo della giornata del 23 che potete vedere in alto a destra grazie al bit dettagli 6.84 ecco una rottura di quel livello in chiusura daily comprometterebbe poi la struttura ribassista non andremo sicuramente ad aprire dei longa ma sarebbe lo stop loss del nostro trade short quindi anche questa è un'operazione con dei buoni rapporti con un buon rapporto rischio rendimento io direi che per oggi abbiamo visto tutto ci sono tantissimi altri argomenti ed è per questo che rinnovo l'invito alla sessione di trading con i cimacopi per section di giovedì con questo ho concluso buona giornata e buon trading a tutti grazie a tutti Grazie a tutti